sta a sinistra vai ragazzi muoversi muoversi aspetta vieni entro il prossimo devi portare la bandiera a base tua questa è la vostra stiamo a portare la base nostra voi quella dovete portare la tua vabbè diamo la fine va fine e allora spero famo un campo un po' direi di fare due capannoni difesa attacco contro attacco alleati ragazzi gli alleati stanno qua davanti a noi uniamoci con loro non riesce a trovare la per prenderlo da davanti prova a girare è venuto con noi perché non riesce a trovare la difesa ok non so dove sognano allora qua dentro ci sta una squadra che è andata a far giro dall'altra parte nel bosco dietro forse qui squadra bosco siamo dalla parte opposta del bosco stiamo entrando al centro al primo capannone nel primo capannone ragazzi si hanno già sparato no non hanno ancora sparato quindi qui non ci sono no 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 stanno nel primo capannone sopra no nel primo capannone attenzione a fuoco amico eh tra poco ci incontreremo tra poco ci incontreremo un'altra squadra tra poco ci incontreremo un'altra squadra prima primo piano primo piano contatti a primo piano a tutte le squadre si trovano sul primo piano ripeto si trovano al primo piano degli uffici si trovano nei piani superiori degli uffici ripeto piani superiori degli uffici lì c'è almeno avvertime che siete arrivati al primo piano avvertime sta arrivati al primo piano sta sopra come neanche ha fatto non vedo come neanche la città come neanche la città che è fatto non prende le mie uillo è un contenimento di basso ok non sforzi proprio Grazie. Sbrigatevi a salire, ripeto, sbrigatevi a salire, alle abiti le scale. Sbrigatevi a salire, ripeto, 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 ripeto. Sbrigatevi a salire, ripeto, 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 ripeto. Pianco che da sotto ce n'ho sperato? Ok stanno appieno di sopra. Lei dietro mi sta notando a dopo? Di notti solleati mi sa. Sopra sta. Alleato? Ok, alleato. aspetta aspetta c'è uno specchio ok lo vedo a destra da baricata ok 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 Sì Ecco l'ho visto da proprio all'angolo Allora ci resta uno qua a destra e uno a sinistra Allora ci resta uno qua a destra e uno a sinistra Allora ci resta uno qua a destra e uno a sinistra Allora ci resta uno qua a destra e uno a sinistra Questo è questo, questo è questo, io sono sempre usato l'onestero. Guarda, ti spezzo le gambe. Ecco, ce lo vedi vicino da qua. Sì. C'è rimasto qualcuno che non c'è. Sì, però non si vedevo sulle scale. Infatti... No, qui che altro nessuno ha letto questa. Ormai. No, per zona. Non lo so, se qualcuno ci vuole provare. Ma io avevo un cappello, Riga. Pronto? Pronto? Come la telefono, eh. Prova radio. Allora, una squadra nostra già sta avanti. Ma il telefono? Sono i nostri. No, sono i nostri. No, sono i nostri. Ok, ragazzi. Andate di qua e poi attraversate. Di qua, di qua, con loro. Direi di passato è qua. E vediamo gli esterni. Sì, sì, ci stanno da loro. Falco, lince. Passiamo di qua. Ma subito? Sì. Gli altri stanno passando dal fondo. Date il supporto a loro. Il canale radio è P3. P3? Non lo so. 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 O stiamo in terra? Certo. No, pure qua, sono bene. Non lo so. Mettete proprio all'angolo della porta. Tutti qui in alto piano. No, no. E' un'esperienza. Ragazzi io non lo so mai spostare. No. Ok, libero Andiamo verso il fondo Andiamo a romper cazzo alla porta A sparare subito? Andiamo a sparare lì dalla porta Voi casomai rifate il tiro Ok, va bene Aspetta, prima mandiamo una squadra nel bosco Ingaggio dal sinistra Riporti Finito, fine Fine Grazie Grazie Sì, siamo passati davanti No No Dietro al tunnel stavano Sì, passate internamente però Rientrate ma passando internamente Perché sono tutti qua Stanno avanzando di gruppo Stanno avanzando di gruppo Mi sarebbero nei forzi Stai io su Stai io su Grazie 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 Grazie